Lazio-Nizza 4-1, Pedro Castelcianos-Castelcianos-Zaccani aveva accorciato per il Nizza-Bogà seconda vittoria su due partite per la Lazio che vuole in testa la classifica di Europa League Beppone, inizia tu, dimmi un po' come hai visto sta Lazio che continua a essere convincente al di là del risultato continua a giocare bene? Continua a giocare molto bene, è una partita senza storia perché al di là di alcuni patemi difensivi la Lazio ha piuttosto controllato facilmente la gara, la Lazio ha cercato fin dall'inizio di imporsi anche nel controllo della palla perché usciva anche dal basso a livello di costruzione, Nizza voleva metterla in difficoltà da questo punto di vista iniziando la gara con un pressing abbastanza alto, almeno diciamo 4 uomini si alzavano abbastanza alti al limite dell'area con il tridente d'attacco e poi solitamente un centrocampista che era o Rosario o Budawi però appunto Lazio è riuscita bene a trovare le catene laterali soprattutto nell'uscire o sfruttando il lancio in verticale, comunque una tattica baroniana un lancio in verticale alle spalle della linea alta francese infatti per esempio la primissima grande occasione cioè la traversa di Castellanos parte da un corner che parte a sua volta da uno scatto di Pedro su una linea lunga trovata appunto in verticale da lì si sviluppa un'azione pericolosa nella costruzione sempre c'è una è venuto molto ad arretrare per aiutare lo sviluppo proprio per appunto sopperire a queste, la pressione del Nizza faceva quasi da secondo terzino a volte insieme a Marusic dall'altra parte Dele Bashiru come con la Dinamo Kiev ha fatto una, ha giocato in una posizione molto ibrida da attaccante quasi a volte faceva la seconda punta assieme a Castellanos e si ha in pressione, in fase di non possesso stava in 4-4-2 quindi facendo proprio da secondo attaccante oppure nell'attacco alla profondità si muoveva molto in avanti appunto e la Lazio poi ha trovato il vantaggio abbastanza meritato già a quel punto da calcio d'angolo dove Nizza non ha difeso bene aveva questa marcatura mista di diciamo un po' a uomo un po' a zona vicino al portiere ma si è perso completamente le marcature poi dallo scompiglio è arrivato quel gran gol di Pedro mamma mia comunque sui corner ti aggiungo una cosa che non so se hai notato che fa spesso la Lazio, ce l'hanno dato in più partite non so se è una cosa proprio sistematica quindi che fanno sempre perché non ci ho fatto caso ho fatto caso che spesso succede c'è una continua alternanza dei battitori per battere che sia con un pallone esterno o con un pallone interno quindi con un destro o con un mancino in base chiaramente a dove batti ad esempio c'è stato c'è stato dei corner cioè il primo l'ha battuto Pedro il secondo c'ha una poi è tornato a batterlo Pedro e così via certo poi alternare c'ha una pedro nei corner è un po' un insulto al calcio però c'è stato il discorso però non so se hai notato questa cosa qua effettivamente alterano spesso tra mancini per avere una soluzione interna quindi sul primo palo e c'è una l'ha battuti molto male però c'è da dire questa cosa qui mentre Pedro ha fatto più queste traiettorie larghe con ad esempio il corpo di destra di Castellanos nel primo tempo forse dal primo corner che ha preso la traversa sì sì non avevo notato effettivamente questa alternanza diciamo che quando ha perso Luis Alberto da quel punto di vista ha perso anche una una grande garanzia che aveva la Lazio perché comunque erano sempre molto affilati i corner che faceva Luis Alberto però effettivamente con Pedro è riuscita a superire evidentemente anche alla grande e inizia poi dopo lo svantaggio diciamo si è disposto su una sorta di 3-2-4-1 nel senso che voleva servire spesso in ampiezza le ali Klos e Luchet soprattutto Klos che sappiamo è un giocatore molto rapido che può mettere in difficoltà nell'uno contro uno ma in realtà sono state spesso contenute molto bene infatti non hanno sicuramente fatto la loro migliore partita la Lazio ha cominciato non è che li batteva di merda è che lui provava a segnare da ogni corner eh sì vabbè secondo me è comunque molto spesso del gol olimpico sì 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 che non si è potuto togliere però sì è vero era molto però allo stesso tempo cioè se mettevi un difensore vicino al portiere poteva essere sì sì creava qualche confusione e quindi appunto la Lazio ha difeso molto bene sulle ali ha alternato quei momenti di pressione alta pressione bassa e ormai appunto abbiamo imparato a distinguere di Baroni e appunto qualche volta sulla pressione alta all'inizio ha creato delle difficoltà soprattutto sul lato sinistro perché Bogat convergeva da quella parte secondo me è stato il migliore dei suoi e col qualche dribbling è riuscito a creare la superiorità e quindi a a sbilanciare la Lazio in fase di difesa posizionale poi inizia si metteva su un 5-3-2 che voleva fare densità al centro però eh questo questa diciamo la fragilità di questo sistema si è vista sul 2-0 quando c'è uno ha fatto un movimento a rientrare verso l'interno poi ha lanciato molto bene di prima eh sempre al centro a quel punto erano già saltate le marcature e c'è stato il pallone in verticale anche poi fortunato appunto nel rimpallo per Castellanos che ha fatto 2-0 e non scontato diciamo che solitamente il Tati è abituato a fare dei gol clamorosi e poi quelli facili sbagliarli si inizia a fare anche i gol facili significa che sì vabbè diciamo che ieri ha trasformato comunque un gol facile in un gol bello con lo scavetto diciamo molto tecnico sì poi deve essere sempre estetico chiaramente lui sì no infatti sì tra l'altro ha fatto anche una rovesciata era buffo dentro l'area vabbè è così è così un po' un pinigliano in quell'aspetto però vabbè e inizia poi rientrato in partita come ho detto un po' a sorpresa almeno secondo me perché non stava particolarmente mettendo difficoltà però da una percussione centrale molto molto bella bisogna dire e c'era anche un ritardo di Dele Bashiru nel rientrare in in difesa e quindi questo un po' mostra anche i limiti di farlo giocare molto avanzato però nella ripresa Baroni ha cambiato con Rovella e Zaccani non tatticamente ma appunto a livello di di energie di uomini ed entrambi sono stati decisivi perché Rovella è entrato benissimo ha fatto l'imbucata in verticale per Castellanos del del 3 a 1 e poi anche per il 4 a 1 ha trovato sempre l'argentino e Zaccani ovviamente poi ha realizzato il rigore trasformato poi di fatto là la partita possiamo dire che è finita perché il campo era diventato inagibile il Mizza ci ha provato ma circa 10 azioni sono state fermate perché a un certo punto la palla si fermava dove voleva lei bisogna dire che la Lazio in qualche modo è riuscita a farla correre di più la palla comunque magari non lo so avevano studiato bene questa questa prospettiva del campo Zucco però diciamo non lo so però là la partita di fatto è finita quindi c'è poco altro da dire insomma si poi l'ultima mezz'ora come avevamo detto insomma è stata una partita proprio più di non lo so Cano Apolo non era proprio una partita di pallone però per fortuna della Lazio era già bella che è conclusa 4 a 1 quindi non sono non è stato un problema no ci tengo a dire una cosa perché poi questa cosa va spesso specificata per l'Europa League secondo me forse anche per la Champions in alcuni casi però in particolare per l'Europa League e ancora più in particolare per la Conference cioè il livello degli avversari perché la Lazio ha buttuto 4 a 1 una squadra che comunque non è di 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 scarso livello anzi cioè il Nizza è inferiore alla Lazio secondo me come come squadra però siamo siamo lì cioè è una squadra forte non è una squadra assolutamente debole e quindi questo è da specificare quindi ha fatto una grande partita con una grande con un'ottima squadra per l'Europa League una grande squadra e la cosa che mi è piaciuta oltre a questa Lazio che continua a giocare bene Baroni sta continuando a fare un lavoro clamoroso e come ho scritto ieri nel gruppo non me la cioè a questo punto della stagione per quello che è il livello della Rosa che è buono ma non è eccezionale e per quello che è l'esperienza di Baroni che era nulla cioè la prima esperienza in Europa banalmente ma non mi aspettavo a questo punto della stagione una Lazio così pronta cioè così trovarla così preparata diciamo come dire ci stiamo avendo molte molte squadre anche con allenatori molto più esperti che stanno avendo difficoltà mentre la Lazio la stiamo vedendo alla grandissima da questo punto di vista per cui c'è da fare complimenti a Baroni e la cosa che mi è piaciuta ieri di Baroni oltre al come ha giocato la Lazio eccetera eccetera ma quella è in continuità con il resto di quello che stiamo vedendo fino ad ora è il fatto che a fine primo tempo sul 2 a 1 quindi sei in vantaggio in Europa League comunque metti due titolari in campo cioè dai un segnale alla squadra dici voglio vincerla e sul 3 a 1 togli vesino metti di A quindi sul 3 a 1 cioè partita già diciamo acquisita per il discorso più oggi che dicevamo prima sì per cui questi sono dei segnali che arrivano alla squadra sono dei segnali importanti anche che dai all'avversario e forse che possiamo recepire anche noi per dire che la Lazio quest'anno che solitamente è una squadra che in Europa diciamo ci ha abituato a prestazioni non proprio entusiasmanti quest'anno punta a fare bene chiaramente aspettiamo dopo ci arriviamo al discorso di come si svilupperà il percorso europeo della Lazio però insomma devo dire che non ha iniziato per niente male anzi ha iniziato benissimo non era un risultato scontato gli anni scorsi con la rosa più forte non avremmo mai fatto l'esatto esatto buongiorno sì quindi quindi questo sì io direi che a volte pur non avendo un allenatore con una grande esperienza e diciamo la differenza la fa anche la bravura nel trasferire i concetti nel plasmare la squadra attraverso dei concetti chiari e definiti pur non avendolo magari pur non avendo questi concetti sviluppato nel corso di anni e anni e questa è forse la grande differenza rispetto a Sarri che alla Lazio non è mai riuscito a fare quel quel transfer diciamo dei suoi concetti di gioco posizionale in tre anni ciao ragazzi e invece appunto Baroni io metto i messaggi e faccio così per non interromperti non ti interrompere da solo buongiorno a questo punto ti siamo interrotti buongiorno quindi appunto invece Baroni con dei concetti forse anche più semplici possiamo dire probabilmente sì perché comunque è un gioco più verticale meno complesso che sfrutta più che altro le caratteristiche anche atletiche dei giocatori però riesce appunto effettivamente a convincerli molto più velocemente questo indubbiamente dal punto di vista competitivo è un vantaggio quindi è chiaro che poi tornando a monte della scelta di Baroni ci si poteva aspettare difficoltà ci si poteva aspettare il braccino corto del solito presidente della Lazio ed è così però però evidentemente ecco vabbè me l'ho perso di nuovo basta comunque ho detto quello che dovevo dire no ci tengo a dire una cosa su questo aspetto qui ad esempio sul fatto che Baroni sia un tecnico molto preparato e valido è in dubbio e chi diceva che è scarso non è buono eccetera si sbagliava detto questo io non darei merito all'Otito nel senso che l'Otito ha fatto la classica operazione in cui gli è andata bene nel senso che ha preso semplicemente un allenatore bravo ma un allenatore che non aveva pretese e quindi che veniva dal Verone e quindi ha fatto quell'operazione lì esclusivamente per quello perché Tudor non è che avesse fatto male ad esempio è stato mandato via Tudor si è rotta il rapporto con Tudor semplicemente perché Tudor pretendeva sul mercato mentre ha preso un allenatore che non pretendeva e gli è andata bene quindi secondo me all'Otito è andata bene non ha grandi meriti diciamo da questo punto di vista il gioco di Baroni è dovete correre è una cosa che mi piace molto perché l'anno scorso non correva nessuno beh è già un passo in avanti sì scusa è giusto un'altra cosa anche avere anche avere una squadra con meno qualità appunto di fondo perché ovviamente hai perso negli ultimi due anni giocatori come Luis Alberto Milinkovic favorisce questo perché cioè il mercato al di là del fatto che non abbia nomi eclatanti ha appunto portato dei giocatori che vanno molto incontro all'idea di Baroni quindi da quel punto di vista almeno sulla costruzione della rosa per quanto si abbiano molte scommesse si stanno mostrando assolutamente congeniali poi ieri non c'era forse il giocatore che più di tutti sta mostrando quanto sia clamorosa questa questo impatto di Baroni e cioè Notavarec che ha avuto un inizio veramente clamoroso ed è proprio quel giocatore atletico che si trova benissimo in questo sistema ma veniamo alle note negative perché basta fare complimenti vediamo anche cosa non ha funzionato in realtà ce ne sono pochissime una è sul gol del Nizza nel senso che loro sono bravissimi però ancora una volta se non era Lazio dietro si è dimostrato un po' allora diciamo la Lazio a livello offensivo è una squadra leggera e frizzante e a volte lo è anche dietro e questo è un buon problema ho visto tutti un po' troppo molli sia a Vesino nella copertura che anche delle Basciro che come hai detto era un po' in ritardo Marusic diciamo quando gli arriva con la palla si scansa tipo Matrix non esattamente la cosa che deve fare un difensore anche c'è una forse un po' in ritardo però vabbè è quello che ha meno colpe chiaramente sì 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 però ecco da quel punto di vista c'è da c'è da migliorare e e poi una cosa che non mi piace ne abbiamo parlato anche l'anno scorso riguardo non mi ricordo non so chi si era creata la questione dal punto di vista dei giocatori però c'era la questione rigorista nella Fiorentina con Italiano ecco questa cosa secondo me vale anche cioè vale per tutti chiaramente questa roba qui del lo scelgono i giocatori rigorista io sono sono contrario il rigorista deve essere deve esserci una gerarchia specifica perché sennò poi si creano situazioni come quella di ieri col pallone lo voglio tirare io poi vabbè non ci sono stati grossi problemi perché Castelciano ha preso la palla però poi gliel'ha lasciata o meglio se l'è presa Zaccani che in realtà che in teoria è il rigorista esatto no no certo però cioè sulla carta Zaccani è il rigorista però è anche vero che in confronto a stampa Baroni ha detto non c'è il rigorista decidono poi i giocatori ma questa roba qua non piace però in realtà questi possono creare problemi tu invece sei pro cioè sei pro no no vabbè no non lo so in realtà non ho una scuola di pensiero da seguire su quello però non lo so perché non cioè è difficile secondo me avere un parere assoluto su questa cosa un po' non lo so cioè se Lautaro viene nominato vabbè forse è un caso un po' senza senso perché Lautaro era malissimo però dico se c'è un rigorista disegnato e poi li sbaglia non lo so da tre di fila io a un certo punto dico ok cambiamo parliamo è chiaro è chiaro si può modificare è una gerarchia fissa però il fatto che ieri effettivamente l'abbia tirato Zaccani in qualche modo secondo me risolve la questione comunque c'è con città che Castelcianos volesse fare tripletta alla fine esatto però però Zaccani si prende la palla e Castelcianos non dice nulla c'è anche una situazione in cui Castelcianos invece dice però alla fine diciamo è rientrata la cosa certo ma è una cosa ma infatti all'interno di una partita perfetta della Lazio tra virgolette c'è solo quella cosa del gol preso questa cosa qui ma giusto per cercare l'ago nel pagliaio sì poi tra l'altro Baroni nel post partita ha detto che Zaccani era rigorista quindi non so vabbè sì questa è la cosa più grave secondo me però per fortuna non è stato vabbè se c'è la le dichiarazioni post partita non lo sentite quindi sa ha detto che Zaccani era rigorista quindi non so perché prima non so perché abbia cambiato questa strategia eh per forse si è accorto che non ha senso sì effettivamente ha detto il decito comunque per quanto riguarda i singoli le prestazioni abbiamo detto di Casteccianos che ha fatto una partita importante un giocatore molto molto forte Pedro mi sono piaciute molto le dichiarazioni di Baroni su Pedro perché che ho letto perché come ho detto non avevo sentito le dichiarazioni post partita ma le ho lette riportate e cioè su quanto lui sia un esempio deve essere un esempio per tutti gli altri soprattutto per i giovani perché è un giocatore che chiaramente cioè ha detto non ho mai visto nella mia carriera uno allenarsi in questo modo che è una roba impressionante per uno comunque con il suo con il suo palmaresse con la sua storia con la sua età anche cioè uno potrebbe pensare Pedro che si rilassa diciamo tra virgolette invece è uno che in allenamento dà tutto e ieri ha fatto una grande prestazione secondo me era entrato anche molto bene aveva fatto molto bene con l'altra di Europa League con la Dinamo Chia ha fatto molto bene per cui ben venga insomma giocatori del genere anche Pedro diciamo l'anno scorso alti e bassi diciamo quindi quest'anno sembra un giocatore finora da soli alti l'anno scorso è stato un giocatore da alti nelle poche prestazioni che ha fatto ha fatto una decina di partite Mandas in caso per gli infortuni di Provedello quest'anno credo forse il debutto stagionale questo non vorrei dire una stupidata sì perché non ha giocato contro eh non ha giocato diciamo quindi quindi meritato forse in Coppaità non ha giocato quindi no dovrebbe essere la prima e quindi molto bene molto bene devo dire mi è piaciuto cioè due interventi è stato attento insomma quando doveva sul gol non poteva fare molto di più perché è stato un gran gol di Boga per cui Mandas è da menzionare in positivo così come è da menzionare in positivo e non è semplice visto che stiamo dicendo una nota positiva forse maggiore della Lazio di quest'inizio di stagione è Tavares il terzino sinistro che lo sostituisce non è mai semplice a me Pellegrini non è dispiaciuto secondo me ha fatto un'ottima prova e poi ancora una volta secondo me è entrato bene Zaccani così è entrato bene Rovello insomma su questo ti eri espresso anche prima tu unica cioè non nota negativa diciamo parentesi che mi ha fatto un po' ridere diciamo Maru si dice vabbè possiamo dargli un 6 alla prestazione però mi ha fatto ridere che nel recupero del primo tempo non so se vi ricordate a un certo punto alza un pallone a campanile lui voleva spazzarlo e lo alza all'indietro poi lo colpisce di testa all'indietro e Massara in telecronica commenta mi sono scritto le parole lui scrive lui dice queste esatte parole fatico a definire i due tocchi che ha fatto questo questo è stato secondo me il momento più bello della ma lo si dice un po' così un po' così esatto questa roba qua Pedro ancora qualcosa da dimostrare mi piace cioè da dimostrare da dare immagino intendessi mi piace il fatto che abbia capito accettato il ruolo di seconda fila ci mette esperienza ma è un giocatore da quel punto di vista utilissimo ma veniamo quindi a questo punto al percorso perché la Lazio è prima ma il problema è che poi ho visto le squadre che deve affrontare me le sono ricordate perché le avevamo viste chiaramente al sorteggio e tutto è un fresco mi ha memoria perché io non mi piace Duente in trasferta alla prossima Porto in casa Ludo Goretz in casa che è la più fattivita come sfida Ajax in trasferta Real Sociedad in casa è Braga in trasferta quindi in realtà è un percorso bello dolce la cosa buona è che le più forti le ha la cosa più buona è che le cose le più forti le ha in casa cioè il Porto e l'area società sono le più difficili le ha in casa però anche anche il Braga andare lì è tosto Braga Ajax sono trasferte insidiose per quanto comunque non è infattibile anche il Duente forse attenzione è bella tosta comunque sì sì sono tutte squadre toste a parte Ludo Goretz in casa che poi può essere perché le dà la trappola però in teoria per come sta giocando immagino sia una partita che possa portare a casa giocando in questo modo abbastanza tranquillamente però insomma è tosta per il percorso per arrivare tra le prime otto però insomma la Lazio ha iniziato bene per cui vediamo da questo secondo me da questo percorso iniziale quindi da queste sei partite più in particolare quelle con Porto Real Societad Ajax in trasferta più le partite di campionato che dovrà affrontare ad esempio alla prossima giocano con con l'Empoli in casa con l'Empoli in casa ma quella dopo c'è la Juve allo Stadium per cui da queste partite importanti voglio vedere quanto la Lazio perché stiamo vedendo una grande Lazio però se pensi alle big che ha affrontato il Milan che però era in condizione diciamo non ottimale e poi però per cui voglio vedere quanto la Lazio può andare in alto non è per discutere quanto abbiamo visto finora per capire quanto è il livello di questa squadra e passerà da queste prestazioni qui se dovesse uscirne positivo non dico come risultati perché non dico devi andare a vincere a Torino con la Juve però come prestazioni e allora si potrebbe anche rivalutare un po' la posizione della Lazio all'interno del campionato e gli obiettivi stagionali che potrebbero essere dimensionati in positivo chiaramente aspettiamo con calma però per quanto visto finora insomma io sono più positivo che a inizio anno sulla Lazio non me l'aspettavo così a questo punto messa così bene per cui per cui questo sono d'accordo sono d'accordo secondo me sarà una squadra che più che altro non sbaglierà molto gli appuntamenti diciamo da vincere cioè secondo me sarà una squadra che delle partite in cui è avvantaggiata farà bene perché Baroni diciamo ti tiene molto secondo me incollata alla realtà piedi per terra e quindi concretamente preparerà molto bene anche le partite più scontate nei big match secondo me andrà in difficoltà e non so quanti colpi riuscirà a fare grossi però diciamo mi aspetto una stagione comunque a questo punto di costanza poi bisogna vedere il doppio impegno più che altro quanto farà reggere la squadra a livello atletico anche perché i cambi non sono tantissimi però diciamo l'inizio fa presaggire buone cose sicuramente grazie a tutti